Musica Lunedì 9 gennaio, San Marcellino di Ancona, è nono giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 356 al termine, il sole sorge alle 7.49 e tramonta alle 16.47, la luna si leva alle 14.17 e tramonta alle 4.04. Il collegio dei magistrati alle acque invita i tre esecutori ai Lidi affinché allontanino le vigne, gli orti e ogni altro abusivo impedimento che il Rechi danno agli argini che proteggono la città del mare. Le previsioni per domani, sulla pianura nuvolosità in aumento con qualche pioggia mista a neve, sui monti poco parzialmente nuvoloso, temperature in aumento in pianura e in calo sui monti. Musica